Buone nuove per il trasporto pubblico in città che questa mattina ha ripreso a funzionare. La SCAT, la cooperativa del Servizio Pubblico di Linea Urbana del Comune di Caltanissetta, torna a derogare un servizio che si era arrestato per più di cinque mesi consecutivi, lasciando nel disagio soprattutto coloro che vivono nei quartieri periferici della città come Santa Barbara, Santa Flavia e Santa Lucia. Da questa mattina, infatti, alle 6.50, gli autobus della linea 2, stazione Santa Flavia, e della linea 4, stazione ospedale Dubini, Cefpas, hanno ripreso la loro corsa e ci è stato possibile grazie ad un accordo tra amministrazione comunale e SCAT, in cui si prevede il pagamento di una somma complessiva di 574.610,41 euro versato alla cooperativa da parte del Comune, alla quale è già stato decurtato un anticipo di 180.000 euro, per consentire al servizio di riprendere garantendo così il trasporto pubblico a chi non possiede mezzo di trasporto, ma soprattutto agli studenti che vivono nelle zone periferiche della città. Ma quali sono gli umori dei nisseni che tornano ad utilizzare il bus cittadino? Queste le loro testimonianze ai nostri microfoni. Mi fa piacere che c'è questo servizio, finalmente per gli anziani, è un servizio ottimo che ci voleva da tempo. Speriamo che i nostri politici non facciano più succedere queste inconveniente, in modo particolare per gli anziani. Sono contenta che riparte la SCAT, così almeno quelli di Santa Barbara hanno la possibilità di salire e scendere con l'autobus e basta. Hanno fatto bene a superare, perché ognuno ha mutui, figli, bollettini, perciò si sono accordati sperando che vada bene. Riprende oggi? Meno male, almeno possiamo utilizzarlo principalmente per l'ospedale, terre pelate e tutta anche la zona. È una buona cosa. Speriamo che si siano messe d'accordo comune alla società e vada bene e continua ad andare bene. Speriamo che il nostro Consiglio Comunale, il nostro sindaco sia sensibile ai servizi pubblici, ai cittadini. Speriamo che va bene così. Io anche se non ne faccio uso, perché a me non serve, c'è tanta gente in difficoltà. E bisogna che siamo dalla parte dei deboli. Io sono d'accordo che riprenda subito per chi lavora e lo facciamo lavorare e per chi lo deve usare. Sono contenta per i cittadini perché è stato un disservizio enorme. Chi non ha la macchina è stato in grave e grande difficoltà, soprattutto gli anziani, poverini, e quelli che hanno problemi, che vanno in ospedale. Sono veramente contenta. Un augurio a questa amministrazione che possa risolvere quei tanti immensi problemi che ha la nostra città, perché ne ha tanti. Poverina, ne ha tanti. Giustamente non è stata una situazione abbastanza facile, però speriamo che riprenda al meglio. Scrire e scendere a piedi, la mattina guardando dei cani, che ci sono un casino di cani in giro, e sono qua, ringraziando al sindaco, veramente, Giovanni Ruvolo è un signore, e i ragazzi della Scatti, ragazzi. Io sono felice perché che sono solo, non c'è nessuno. E la mattina, quando io scendevo, mi guardo di dietro per vedere i cani. L'altro giorno 15 cani avevo appresso io, perché mia fila potturata è piena di cani, ragazzi. E questo solo dico, ringraziando al sindaco e ai ragazzi della Scatti, che devono durare sempre così.